Il maestro Francesco Guadagnolo, per l'attenzione che ha sempre dedicato alla società di origine Caltanissetta, ha realizzato una grande opera pittorica, Chiesa e Covendo, Santa Maria degli Angeli, paesaggio e morte nel cimitero monumentale di Caltanissetta, un olio su tela. L'artista ha voluto far riscoprire con quest'opera e valorizzare un patrimonio architettonico che rappresenta l'anima spirituale della città di Caltanissetta, in occasione del restauro in corso del Convento Santa Maria degli Angeli, che sarà dibito a sede della soprintendenza dei beni culturali e ambientali. Tale evento d'arte rinnova il legame di stima sendito tra l'artista e la sua città e per la sua affermata carriera anche al di là della Sicilia. L'opera è una struttura che si estende in orizzontale. Il dipinto si divide in tre insiemi di componenti nodali dell'ambientazione come fosse un trittico. Uno è dato dall'architettura d'ingresso al cimitero monumentale, il secondo dalla chiesa Santa Maria degli Angeli con antiguo convento, il terzo dai ruderi del castello saraceno di Pietrarossa. L'opera è di forte imbatto visivo, forma spazio realistico si legano nel disegno come anche nella prospettiva nei differenti piani di colori. Al di là dei dettagli è stata analizzata la composizione dove si racchiudono diversi elementi simpolici per dare dei contenuti culturali all'opera. Nel paesaggio è percepibile il cogliere dell'aria mattutina che dà pregio al cosiddetto senso dell'ambiente naturale. Alle porte dell'inverno la campagna ridosso dell'entrata del cimitero è ombrosa. La notte sta per finire e il chiarore dell'alba sta per iniziare. Il movimento tra la notte e il giorno è rappresentato dalle molteplicità dello sfondo della campagna in zone composite di ricercato cromatismo. In primo piano sulla destra è ciò che rimane del castello di Pietrarossa.